La domanda interessante che hai fatto tu era quella su come si strutturano i turni, il livello di sapere. La cosa che a me è sempre piaciuta molto alla ciclofficina Don Quixote della SNIA è che c'è zero tecnicismi, il sapere aggiustare una bicicletta non conta proprio niente. E questa cosa è assurda perché per esempio la mia esperienza è stata che un giorno frequentavo la ciclofficina da utente, avevo conosciuto Piero, stavo sempre lì a negozio da lui Un giorno è passato uno dei responsabili della ciclofficina che non poteva aprire e ci conoscevamo perché io comunque la frequentavo, andavo a giustarmi a bici però poi rimanevo, studiavo un po' come lavoravano i meccanici E Dario, ti ricordi? Mi ha dato le chiavi e mi ha detto, io non posso, vai tu, io arrivo e sono stato buttato in un turno di quattro ore da solo con sei postazioni, venti persone aggiustasse la bici dentro o fuori Io da solo che di bici non ci capivo niente, niente, sapevo fare una foratura, i freni non sapevo proprio, non c'avevo proprio idea e quindi è fighissimo perché poi mi sono dovuto gestire queste quattro ore senza un minimo di sapere E quindi andavo, arrivava il ragazzo e mi diceva, io devo fare i freni, ho detto, guarda io non ho minimamente idea di come si fa, adesso chiediamo, regà chi è che sa come si fanno i freni, allora vieni qua Oppure facciamolo insieme, cioè non l'ho mai fatto, non l'hai fatto neanche tu, ragioniamo in due teste, proviamo a vedere cosa riusciamo a fare Non sono le altre cicloficine a Roma ma anche alla centrale era così, cioè ti trovavi buttato in mezzo a un certo punto, catapultato da utente a responsabile e ti ci trovavi Cioè il corso interno è nato nel momento in cui si stava aggregando tantissima gente e alla sera non si capiva più niente, i responsabili stessi spaccavano gli attrezzi Cioè vabbè, fermi tutti un attimo, cerchiamo di... Questa cosa è molto curiosa perché nonostante io e Matteo siamo culo e camicia, spesso lo definisco mio figlio E lui ha appena detto l'esatto opposto di quello che ho detto all'inizio di questo... di questo... di questo incontro Giusto così Capisci? E adesso lui gestisce la cicloficina alla SNIA e lavora da me in negozio Cioè capisci? Proprio... è proprio... questo per tornare al discorso pure che facevamo io e te Però questo... quando tu parli, no? Gestisce, perché a me non mi è chiaro questo concetto di gestione, diciamo La... come funziona questa... cioè quando una persona passa da utente a responsabile Cioè chi lo decide? Come viene deciso? Cioè qual è l'organico che lo decide? Io davo... davo... davo per scontato una cosa... le ciclofficine hanno un'assemblea di gestione Siamo d'accordo tutti su questo, almeno è un punto proprio, no? L'assemblea di gestione... Ogni quanto tempo si fa questa... Ma dipende dalle ciclofficine, in teoria una volta a settimana, una volta ogni due settimane, una volta al mese Sì, la rete delle ciclofficine popolari c'ha... No, noi la facciamo una volta a settimana Una volta a settimana, al termine di un turno Quindi se non c'è l'assemblea una volta a settimana, una volta al mese, tu, eh? Non... diciamo... Beh, le decisioni vengono prese in assemblea Perché l'assemblea è un momento di discussione dove ci si vede in faccia e si discute Sì, no, lui sì, lui no, aderiamo, non aderiamo, ci piace, non ci piace, ragazzi è rotta una forcella L'assemblea poi è aperta a tutti e tutti gli utenti sanno che c'è l'assemblea il lunedì sera Quindi se c'è una persona che decide che da utente vuole passare a essere meccanico della ciclofficina A prendersi un turno Ma pure io dicevo che il sapere non conta all'inizio Perché se un utente vuole, c'ha la voglia, il tempo di venire a fare un turno in ciclofficina Cioè non serve a niente che lui sia già un bravo meccanico L'importante è che passa in assemblea di gestione e dice guardate io voglio iniziare a fare il meccanico E noi gli diciamo di passare durante i turni, si affianca a un altro meccanico e poi impara Cioè non è che deve essere... cioè nessuno nasce imparato Quindi in quel senso non è... Sì, sì, è un momento... Ragazzi, allora, piano piano, eh Chi non si sente non capisce Mi sembra che... la facciamo l'assemblea qua settimanale, non c'è più No Cioè noi non ci siamo... che ne so, le figure dei responsabili si sono sempre autodeterminate Cioè nel senso... Sì No, le figure... nel senso che è stata molto spontanea Cioè non... nel senso... con lo spirito volontario è stato molto coerente Cioè nel senso se uno si è sempre di più voluto dedicare E si è dedicato sempre di più e poi si è autodeterminato che avesse le chiavi Che diventasse un riferimento all'interno della ciclofficina Da un punto di vista organizzativo, sì, ancora non abbiamo un assetto organizzativo di assemblee o quant'altro Quello è un aspetto organizzativo che ancora manca e che sicuramente sarebbe utile Diciamo che da noi la struttura è questa perché essendo all'interno di un centro sociale Un po' ripropone le dinamiche del centro sociale che c'ha l'assemblea di gestione una volta a settimana Le decisioni si prendono lì tutti insieme Quindi è solo che è stato riportato lo stesso meccanismo Che funziona e se qualcuno da noi vuole le chiavi della ciclofficina Viene in assemblea, le chiede a tutti, se ne discute del perché Non è che prende e si fa le chiavi No, la votazione è democratica e noi non ci crediamo nella democrazia Chiedevo se si facessero delle votazioni No, si evita Si cerca sempre di essere tutti d'accordo Ma invece diciamo, il responsabile passa attraverso l'assemblea di gestione e si decide lui sì, lui no È successo un lui no? Vi è capitato? No Da quando ci sto io no? Non so, prima Beh, no Non abbiamo mai deciso lui no Tu Corrado, vieni Ragazzi, sono venuto a riparare la bici qui da voi Mi piace, vorrei dare una mano, posso prendermi un turno in ciclofficina Ok Corrado, puoi venire Che giorno ti starebbe comodo? Noi siamo aperti, lunedì, mercoledì mattina, mercoledì pomeriggio e venerdì Venerdì c'è Laura e Dario Puoi affiancare loro No, ma io il venerdì ho da fare lavoro Vengo il lunedì Ok, lunedì troverai Matteino e Giacomo Affianchi loro Così, no È difficilissimo che venga detto di no a una persona Mi interessava farlo sapere Certo Lui sì, lui no Però difficilmente Sì, magari dopo Se questo succede Perché le ciclofficine sono piene di personaggioni Però era anche importante farlo sapere Che difficilmente uno E' stato deciso invece in assemblea di levare le chiavi a qualcuno Sì, a voglia E' stato deciso questo Che è sempre brutto dirlo e farlo Ma a volte è necessario Persone che venivano in assemblea Dicevano mi faccio il turno Gli si dava fiducia Gli si davano le chiavi E poi in ciclofficina venivano Quando la ciclofficina era chiusa A farsi i fatti loro Che questo è un altro dei classici concetti Che spesso ha creato anche divisioni E discussioni all'interno della ciclofficina Quello viene a farsi Passatemi il termine I cazzi suoi Questo è proprio il classico esempio Che succede all'interno della ciclofficina Anche lì insomma Fa parte molto della gestione delle cose Dobbiamo aspettare Mi pare di capire che l'assemblea Questa forma assembleare Ha fondamentalmente due valori Uno è recuperare le risorse energetiche Delle persone che vogliono cooperare Il secondo è di creare una base di socializzazione Quindi di confronto costruttivo Fra i partecipanti L'assemblea è indispensabile Per le ciclofficine O potrebbe non esserci Da noi è indispensabile Ma è organizzativa vera e propria Allora Che manca in ciclofficina Che dobbiamo comprare C'è la critical mass Questo mese Che vogliamo fare C'è il cyclocamp La cemmona Dobbiamo organizzare Dobbiamo sistemare Stanno facendo le piste ciclabili Autocostruite In giro per Roma Che ne pensiamo Siamo d'accordo Pista ciclabile sì Pista ciclabile no Andiamo a dare una mano Cioè È un momento di confronto E di organizzazione Non si fa senso E sì Ci deve stare Ci deve stare Ci deve stare Cioè Cioè Lo sciopero generale La ciclofficina aderisce Se aderisce Aderisce con un comunicato Vogliamo fare un comunicato Su Che ne so La rete delle ciclofficine popolari È andata a Rosarno A dare una mano Come Vediamoci tutti insieme E capiamo come andare Portiamo soltanto i giubbini Perché quelli lì La ciaccano una volta a settimana O vogliamo fare Andiamo lì E creiamo formazione E gli insegniamo a loro Autoripararsi le biciclette E si fanno una ciclofficina Capito Le assemblee servono a quello Fondamentalmente Ora io prenderei la palla al balzo Per iniziare a spostare Questo discorso Mattino Ma preceduto In assemblea L'assemblea delle ciclofficine romane Si vedono E si parla della CM Mona Quanto c'entra La CM Critical Mass Con le ciclofficine popolari La mia esperienza personale Io sono Nato in Critical Mass E dalla Critical Mass Ho sentito il bisogno Di aprire una ciclofficina Ok Quello che penso io Personalmente È indissolubile Il rapporto che c'è Tra ciclofficine E Critical Mass Non esiste Che le ciclofficine Non creano informazioni Sulle Critical Mass Non è detto Che le persone Che vanno in Critical Mass Devono andare Necessariamente In ciclofficina Ma le ciclofficine Sono correlate Con la Critical Mass La Critical Mass Non nasce Dalle ciclofficine Ma è proprio Fa parte De Non lo so Tu sei d'accordo Su sta cosa Perché Non nasce Dalle ciclofficine Ma sono le stesse persone Che stavano in ciclofficina Quindi Esatto La stessa CMona Che Per chi non lo sapesse Noi chiamiamo CMona Che sarebbe La grande CM CM Critical Mass Noi abbiamo Abbiamo trovato questo termine Dieci anni fa Per Perché avevamo Voglia di organizzare Una Critical Mass Nazionale Ora La prima Critical Mass Grande Che ci fu in Italia Almeno che ricordo io È quella del COP 9 A Milano 2001 Ed è anche la prima volta Dove ho visto Una ciclofficina vera e propria Al Al Bulk Era Era inverno Credo Era intorno a dicembre In quella In quell'occasione lì La Critical Mass Romana Ha affittato Un vagone Eravamo in 60 Per metterci le bici E siamo saliti su A Milano Quindi Già c'era La Critical Mass A Roma Già ci vedevamo Già era abbastanza organizzato Forse all'epoca C'era già la main in list E È da lì È nata l'idea Di fare una Ciemona Una grande Critical Mass E L'abbiamo organizzato A Roma Con Il desiderio Il sogno La speranza Che poi Ogni città Organizzasse La Ciemona Itinerante Cosa che è stata fatta In Francia Cosa che stanno facendo Anche in Spagna Con la Criticona C'è stata a Bilbao C'è stata a Madrid C'è stata a Barcellona Se non mi sbaglio In Francia C'è la Velorussione Che l'hanno fatta a Parigi L'hanno fatta a Lione A Montpellier A Toulouse In Italia Questa cosa Non accade Ogni anno Ma perché forse Secondo me i motivi Sono vari Quando organizzi Un evento simile È fondamentale Comunque avere una struttura Recettiva È fondamentale Perché non puoi organizzare Un evento Dove stai invitando Persone a venire da fuori E poi non ti dico Un posto dove stare Quello è fondamentale Siccome la SNIA È bellissimo Non so quanti di voi Ci sono stati È proprio un posto Super Accogliente Cioè è proprio idoneo A fare una cosa simile Alla fine Si fa la CEMONA Spesso si organizza Si organizza a Roma Ora Ci sono persone Dell'organizzazione Della CEMONA Che rifiutano Di capire questa cosa Per farvi capire Quanto poi Sono No? Quanto sono Assurde le dinamiche Che si creano Sono persone Della CEMONA Che dicono Che le ciclofficine Non c'entrano niente In tutto ciò Quando in realtà Le ciclofficine Sono i posti Dove Vengono Smistati Manifesti Vengono Organizzate L'iniziativa A fine CEMONA Sono i posti Dove vengono Costruiti I sound system Messe a disposizione Le biciclette Per il noleggio Cioè noleggio Prestito Gratuito Alle persone Che vengono da fuori Insomma È il posto Dove vengono fatti Ciao ragazzi Grazie Stanno andando via I baresi Dove poi viene dato L'alloggio La possibilità Di campeggiare A chi viene da fuori 200 posti Tenda Ci sono i bagni E questo non succede Solo alla Snia Ma succede anche Alla ciclofficina Dell'ex lavanderia Che mette a disposizione I propri spazi E quindi Come dicevo prima Sono due cose Assolutamente Proprio correlate Tra loro Le persone Che vanno in Critical Mass Questa cosa La sanno Alcuni la rifiutano Alcuni si riconoscono Nelle ciclofficine Alcuni vogliono Essere totalmente Indipendenti E Boh Il concetto Di Critical Mass Non lo so Non so proprio Da dove partirei A parlarne Sinceramente Perché Allora La Critical Mass Nasce a San Francisco Se proprio vogliamo fare Nasce a San Francisco Da un'idea di Come si chiama Chris Carson Idea che gli venne Addirittura Dalla Cina Dai semafori in Cina Prendetevi conto Cioè Lui vedeva Tutti questi ciclisti Che facevano massa Sti semafori Quando diventavano Un numero cospico Un numero grosso E Passavano sto semaforo Infischiandosene altamente Delle macchine Perché erano arrivati A essere 20-30 persone Sono proprio dei video Che testino queste cose E lui Da ciclista Ha detto Ma sta cosa La Critical Mass La massa critica Facciamo sta cosa A San Francisco Ed è nata così Come un'unione Di ciclisti Che rivendicavano I loro spazi Un incontro casuale Questi sono proprio Gli slogan Noi non blocchiamo Il traffico Ma noi siamo il traffico E questo è uno slogan Che è rimasto così Da 20 anni Viene tradotto In tantissime lingue In tutto il mondo E fondamentalmente È quello A Roma Uno Una delle tante linee guida Che viene date Parte proprio con La frase La Critical Mass È un appuntamento Casuale Di ciclisti Ok L'ultimo venerdì Del mese A quest'ora Si vedono Sti ciclisti E si va in giro Tutti insieme Prima si discuteva Su A che cosa serve La Critical Mass Poi ognuno C'ha la sua Io personalmente Vi posso dire La mia Dopo 12 anni Che vado La Critical Mass Ne ho organizzate Ho partecipato All'organizzazione Della Ciemona Io personalmente Adesso come adesso A 12 anni Da questa cosa Vado la Critical Mass Perché sono felice Quando chiudo bottega Di andare a pelare In mezzo a 200 persone Felice Ok Felice Semplicemente Quello Quando ho la possibilità Di parlare con qualche Automobilista Mi fermo E gli racconto Qual è la mia esperienza Ma non ho assolutamente Intenzione di mettermi lì A Baccagliare O a A raggiungere addirittura Le mani Cose che succedono spesso Non so Quanto la Critical Mass Debba Avere a che fare Con le istituzioni La Critical Mass Non ha a che fare Con le istituzioni Per moltissime persone Che vanno a la Critical Mass Cioè Non è una biciclettata Ecologica Di legambiente Non è La biciclettata Del PD Non c'è L'assessore Quando c'è qualcuno Che tira fuori Bandiere nella Critical Mass Gli viene chiesto Di levarle Perché è successo Anche questo A Lecce e Mone Si presentavano Quelli del VVF Ma come una No Un bandiere del VVF Non ci può stare Meglio di no Questo è quello che penso Io della Critical Mass Cioè È una festa È un momento Per ritrovarsi Insieme ad altri ciclisti Ed è palesemente Una maniera Per dimostrare Gli automobilisti Che ci sono anche ciclisti Non so cosa ne pensate voi Possiamo iniziare da questo Ognuno può dire Cosa ne penso Sì Possiamo vedere delle immagini Intanto inizio a cercare C'è qualcuno Che vuole dire Cosa ne pensa Lui della Critical Mass Io credo Che la Critical Mass Aveva dei problemi Di definizione È da là Che nascono Un po' tutti i casini Cioè La Critical Mass È un appuntamento Casuale Cioè Io ti dico Che alle 10 Ci troviamo in quel posto Alle 8 Alle 7 Ci troviamo in quel posto E quando ci troviamo Non è che ci troviamo per caso Ci troviamo perché L'abbiamo deciso Si dice che la Critical Mass Non è organizzata Ma se abbiamo deciso Che quello È il momento In cui ci troviamo No Dice Le ciclofficine Non dovrebbero avere Niente a che vedere Con la Critical Mass Questo non è vero Perché qualcuno Deve pure organizzarla Il problema è che In termini Diciamo per termini Di definizione La Critical Mass Non è organizzata Questo è il problema Cioè È la cosa difficile Da comprendere Cioè Chi ti fa L'obiezione Che La ciclofficina Dovrebbe avere Niente a che fare Con la Critical Mass È lo stesso Che legge Il decalogo Esattamente Come sta messo Diciamo Con le poche Regole Basilari Dico Vabbè Ma la Critical Mass Non va organizzata Come fai? Cioè Come funziona? Bello Secondo me Sì Il percorso è casuale Però Ah Il microfono Il microfono Non c'è un capo E non c'è chi organizza Punto Ma Non solo nella massa In teoria Anche nell'aggregazione Cioè Un raduno spontaneo Spontaneo Crea un po' di difficoltà È un appuntamento Sì Secondo me funziona Non va proprio definito Cioè Un appuntamento casuale Bellissimo Perché poi È come È come I rave I volantini dei rave Che c'era scritto sotto Non è una festa Oppure L'allegat Che la gente Alla partenza Dice Non è una gara Cioè È quello Funziona Non è definito Funziona Sì ma Di fatto Se noi Quell'ottima e mezza Ci vediamo in pizzeria Non è casuale Che ci troviamo in pizzeria Non è casuale Cioè Capito Come funziona Non è che ogni mese Cambia Ok Ad esempio A Roma Abbiamo un appuntamento L'ultimo venerdì In quel posto là Finito Non c'è bisogno Di nient'altro Non è casuale Che stanno tutti Ma a quell'ora No Non è casuale Ma è importante Il problema Secondo me È stupidissimo Ed è Nella definizione Cioè Di fatto Qualcuno la deve organizzare Alla Ciamona Non ci troviamo In 10.000 A Roma Così No? Sì La Ciamona è un'altra storia Un'altra storia Quindi Al momento stesso Poi Della critica Tu Ti ritrovi In mezzo A una massa E non sai Chi l'ha organizzata Ed è bello Sapere Chi non l'ha organizzata Non sapere Chi l'ha organizzata In quel momento Lì diventa Indefinibile E A mio parere Cioè Le cose indefinibili Sono libere Se tu Definisci una cosa Non è più libera Quindi Perde Forse Cioè Diventa attaccabile Quindi sono libero Di portare una bandiera Se mi va No È È indefinibile Portare una bandiera Tu stai Stai catalogando qualcosa Ma io porto la mia Persona La bandiera Di casa mia Perché non ce ne sono No sì In realtà sto Sto cercando un po' di No Di Di minare la base La cosa Perché comunque È strana di suo Sì No Sì Cioè È difficilmente Catalogabile Difficilmente Difficile Capire Chi deve andare A dire Cosa Capisci Cioè Perché io vado da quella Dici ma Leva sta bandiera La cambiante E quello mi fa E tu chi sei Eh no Io sono Piero Il papà No Chi Non c'è capi Per quello Proviamo a scrivere Le linee guida Dove Chi le scrive Le linee guida Ma non c'è capi Non si possono scrivere Le linee guida Non funziona Va bene Funziona Funziona benissimo Ma è contraddittore In termini Capirai Io vorrei tornare Sull'esempio Della Della Russia Quando Prima Lo raccontavo Quando stavo mangiando Quando ero in viaggio Ho partecipato Alla Critica al Mass A Mosca Quando ero in viaggio Cercavo sempre Critica al Mass Proprio per il piacere Di perdere là In mezzo ai ciclisti Perché è una cosa Che proprio È bella Ti fa crescere Lo dicevo su uno spottino È il piacere Della condivisione Di questa cosa qui È proprio La poesia Della condivisione Ci hanno preso Pure in giro Questa frase In Russia A Mosca C'hanno un regime Di polizia Durissimo E la Critica al Mass Nel corso degli anni È diventato Praticamente Una sfilata Cioè Questi Sembrano un plotone Se tu vedi Sti ciclisti Serissimi Che hanno perso Proprio la gioia Di scherzare Di divertirsi Nel far questa cosa E stanno lì Occupano una sola corsia Ma proprio Precisamente Stanno proprio Sulla linea Della corsia Non sgarano Di un millimetro Tutti in fila Zero campanelli Zero tolbike Niente Sound system Nulla E così Sfilano Vanno Pure tanti Insomma Quando sono andato io Era inverno Faceva freddo E saranno stati Un centocinquanta Insomma Per Mosca Non erano pochi E lì per lì A me mi veniva Da uscire Dalla corsia No Bloccare Un po' mi spostavo Le macchine Che arrivano Sulla corsia libera Mi suonavano Dovevano rallentare Mi dovevano scansare Io mi scansavo Poi mi rimettevo E sentivo Alla dietro La gente E mi dice Ehi levati Ehi fatti Pi là Lascia passare Fino a quando A un certo punto È arrivato un tipo Con un vestito Molto da secchione No Con il giubbottino Catarifrangente E tutto E mi fa No 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 Tu ti devi mettere dentro Perché qui Noi facciamo così E rispetta Il nostro modo Io lì per lì Ho detto Ma non sarò io Adesso a cambiare La critica al mass Di Mosca Con la mia toll bike Che sto in viaggio Domani me ne vado E quindi Sono stato lì per lì E poi Quando è finita La critica al mass Siamo arrivati in piazza E Mi hanno raccontato Che Lì La polizia Li ha Cioè Sono arrivati A quello Perché la polizia Nel corso del tempo Rompeva Cioè Fermava Caricava Addirittura Non permetteva E quindi Alla fine Loro sono arrivati A questo tacito accordo Che occupano Una sola corsia Girano E questa Era la critica al mass A Mosca E Le critica al mass Che organizzate L'indonesia Ragazzi Era una festa Indescrivibile Ma perché lì La gente Non va di fretta E quindi Si si fermavano I motocivisti Si fermavano Parcheggiamo Volevano provare Le toll bike Cioè Era proprio Era Era un delirio E questa Era l'indonesia E In Spagna Era un'altra cosa In Francia Erano un po' Più organizzati Noi quando organizziamo La Ciemona Che è una cosa Un po' sui generis Rispetto alla critica Al mass Perché lì In fondo C'è dietro Un'organizzazione Le prime volte Che l'organizzavamo La Ciemona Dove tu c'hai Sta cosa Che stai per Ospitare Stai per Fare un evento Dove ci sono 6.000 8.000 12.000 ciclisti Sono arrivati A essere 12.000 ciclisti Le prime volte Ci domandavamo Se ci dovesse essere Un servizio d'ordine E ci sono stati Proprio assemblè Su assemblè Dove si rimaneva Fermi su sto punto Dove c'erano persone Che sostenevano Che ci devono stare Delle persone davanti Delle persone dietro Con i walkie talk Io guarda che qua Si è spezzato Qui Stanno a caricare Perché addirittura Poi ci sono stati Anche dei disordini Alcuni anni C'erano delle polizie Delle camionette Della polizia Che stanno lì Per altre Circostanze Poi ci sono stati Dei battibecchi Delle cose E alla fine Abbiamo deciso Ogni volta Che non ci deve essere Niente Addirittura abbiamo pensato Di provare a far Split Dividere La critica al massimo Due Tre Quattro tronconi Perché 6.000 ciclisti Possono occupare Il centro Di una città Per un'ora e mezzo Ma 6.000 8.000 ciclisti Se li dividi In tre tronconi Riescono a bloccare Tutta la città Per un'ora e mezzo Capito Sì Non lo so La faccenda Della critica Al massimo È una cosa Piuttosto Complessa Io non sono mai Stato personalmente A Budapest Che a quanto pare Sia la critica Al massimo Più grande L'unica cosa Che penso Che ci confrontiamo Anche con Mattia Qualche giorno fa Mattia è un classico esempio Di quelle persone Che si è allontanata Dalla critica al massimo Perché ogni volta Vedeva disordini Vedeva Quasi un incentivo Da parte di alcune persone Una scusa Per poter litigare Sfogare Delle proprie frustrazioni Gente che magari Non va allo stadio Non riesce a sfogare In altri modi Delle frustrazioni E va alla critica al massimo E se la piglia Con l'automobilista È assolutamente A mio avviso La cosa più stupida E sbagliata Perché La cosa che tu vuoi fare In critica al massimo È comunicare Il tuo Quello che sei riuscito A capire Che fai a meno Dell'automobile Punto E se non lo fai Con la gioia Che ti ha dato Sta scelta Non riesci a comunicare Assolutamente nulla Cioè stai facendo Pugno contro pugno E a quel punto Non riesci a Non è Non è un passaggio immediato Cioè nel senso Ci devi riflettere Secondo me Perché io per esempio Le prime volte Che sono capitato in CM Vabbè la prima volta Sono andato con te E Bello La festa Così Poi Cominciato ad andare in CM Regolarmente Tutti i mesi E io Le prime volte Ci arrivavo avvelenato Perché attraversavo Roma Tutti i giorni Avanti e indietro E vedevo solo Macchine che mi venivano addosso Solo gente che mi voleva Mettere sotto Con la macchina Tutti i giorni Tutto il giorno Gente che mi suonava Così Quando arrivavo in CM E mi trovavo in mezzo Ai ciclisti Il primo automobilista Che suonava Io stavo avvelenato Io stavo avvelenatissimo E questo è durato tanto Io arrivavo in CM Veramente Per me era Una forma di protesta Forte Molto Molto Arrabbiato Poi col tempo Ho iniziato a capire Che comunque Quell'atteggiamento Non portava Niente Però Per me non è stato Un passaggio immediato Cioè ci ho dovuto Riflettere parecchio Ci fu Una Ci fu una Discussione forte Che portò addirittura La ciclofficina Della SNIA E la ciclofficina Del Macchia Rossa A dividersi Completamente Fino al punto Di non parlarsi più I primi Il primo anno Che la ciclofficina Nacque 2003 Perché Fu spaccato Un parabrezza Ad un automobilista Che era davvero Davvero Fastidioso Una persona Davvero Fastidiosa E una persona Di una Ciclofficina Ha spaccato Questo parabrezza E l'altra Ciclofficina Ha fatto uscire Un comunicato Un comunicato Dove assolutamente Non si riconosceva In questo gesto E l'una Accusava l'altra Di aver fatto Questo comunicato E quindi Le guardie La polizia Poteva accusare Quella ciclofficina Perché Successe quella cosa E lo scazzo Fu talmente Tanto grosso Che ci fu Proprio una divisione Di queste due ciclofficine Che sono riuscito A riparlare Pochissimo tempo fa Per farvi capire Quanto può essere Differente Una critica al massimo Io Non so che dire Riguardo le critiche al massimo Vi posso far vedere Immagini Raccontarvi Della Criticona Della Velorussione Della Ciemona Che organizziamo noi Qui in Italia E poi magari Parliamo anche un po' Del cyclocamp E di quello Che ci è venuto in mente Ieri sera E se siamo tutti D'accordo Come dicevo Questa diffusione Qua Che voi Vi aspettavate Dalla Ciemona Che poi si potesse Diffondere Nelle città Contraverso una forma Una forma di rituale Un qualcosa La critica al massimo La Ciemona È intesa come grande critica al massimo Estesa a livello nazionale O interplanetario 10.000 ciclisti Che parlano altre lingue Fanno la stessa cosa Che fai te La pensano come te E rincontrarci È una cosa Che crea Conforto Crea forza Crea Crea forza Per quanto Tu hai detto prima Che la propria 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 Di certo Roma Chiama Un sacco Di persone A venire Per A non La propria La propria Diciamo Chiama Un sacco Di persone Se si proponesse Una 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 Ciamona Qui A Lecce I numeri I numeri Non sarebbero Gli stessi È successo Questo in Francia Che è l'unico Esempio Che posso riportare Anche In Spagna La prima Criticona Che fecero In Spagna È stata A Madrid Ovviamente I numeri Che c'è In una Capitale Non sono Gli stessi Che c'erresti Qui a Lecce Perché I due terzi Della Ciamona Sono romani Potremmo Fare una Prova Quello che voglio Dire Insieme al Psycho Camp E vedere Come unirle Almeno Vedere Che tipo Di risposta Abbiamo Il Cyclocamp C'ha una Critica Al mass Come alla fine Sempre È così Come è successo Qui anche Ieri Alla fine Sì È una Grande scommessa Vediamo Come va Tornando a Sta cosa Dei numeri Una cosa Molto Curiosa Il classico Esempio Il classico Fenomeno Da Ciamona Che a me Mi da Mi fa Mi fa Mi fa Tremendamente Incazzare Come cosa La Ciamona È diventata Una cosa Talmente Tanto Romana È talmente Tanto Oramai Un evento Fisso Che c'è Il ciclista Della Ciamona C'è Il ciclista C'è Quella persona Che comunque Si considera Militante Vicino Alle forme Di lotta Che ne so O militante Che sta In un'occupazione O che ne so Che Non so Persone Che Però Sai Io non riesco A usare la bicicletta Tutti i giorni Perché È Perché Comunque È il mio lavoro Perché Io abito Lontano È perché Perché Questo È perché Quell'altro Ci hanno sempre Una scusa Però Io riconosco È giusto Sposo La causa Dei ciclisti E quindi Vengo Alla Ciamona E quello lì È il ciclista Della Ciamona Vado a dire Quella persona Che ha La bicicletta O se la fa Addirittura Prestare O se ha Una bicicletta Ce l'ha Sotto casa A prendere Acqua E ruggine Tra l'altro È Il classico ciclista Che viene a rompere Le scatole Una settimana Prima Della Ciamona Quando Tu hai Ciclofficina Che esplode Quando tu hai C'hai Proprio una marea Di cose Da gestire Tutte le persone All'ultimo Per la bici Per la Ciamona Ti arriva Due giorni prima Con questo ammasso Di ruggine Dimenticato Lì per un anno Capito Eh però sai Io comunque Voglio venire Alla Ciamona Perché da sei anni Che vengo Alla Ciamona No perché Alla Ciamona Questo è proprio Il classico Fenomeno Che crea L'assurdo Perché noi Facciamo anche Un prestito Delle bici Tutti Noi meccanici Delle ciclofficine Amici Così che ci hanno Più di una bici Mettono a disposizione Tutte le altre Si mettono in ciclofficine E si prestano Chi viene Da fuori Da fuori Roma È capace Che arriva Quello che abita Di fronte Alla ciclofficina A 50 metri Ti chiede La bici In prestito Per andare Alla Ciamona Cioè è diventato È assurdo Quindi tu Quando stai Sotto la Ciamona Organizzazione Cosa La ciclofficina Che esplode Che esplode Devi pure controllare Se quello a cui Stai a prestare La bici Viene da Trento O viene da di fronte La strada Cioè Le Le fotografie Che mostro Vabbè Sono un po' Di fotografie Delle Delle Cie Mone Vi farò vedere qualcosa Della Criticona Sinceramente Non ho fatto Una selezione Quindi Mone vediamo Qualcuna Random E Questo carro Qui L'abbiamo costruito L'anno scorso No No vabbè No che non so selezionate Ce ne stanno Tipo 200 Solo con questo Capito Per quel motivo Questo è un carro Che è stato costruito Durante il Cyclocamp No Era stato costruito Durante il Cyclocamp Era stato Rifatto Durante il Cyclocamp Questa mi sa che è il primo Questo qui è il primo Questo qui è il primo Ah è vero Sì Comunque sì Era stato costruito Per la Ciemona E' una piccola tradizione Che avevamo Che era quella Di costruire I carri Per rendere Ancora più Grande L'esplosivo L'evento Della Ciemona Insomma Uscire con delle cose Le foto le lascio piccole Perché non Vabbè Comunque si riescono a vedere Dai Che vi posso far vedere Qualcosa a perdita D'occhio E Un'altra cosa Che spesso si fa Durante le Ciemone E Organizzare La Il fine serata Per il sabato E per il venerdì Cosa che è un po' Particolare Per la Critical Mass Perché la Critical Mass Non c'ha un inizio Non c'ha una fine C'ha un inizio Ma non c'ha mai una fine Invece Per le Critical Mass Volevamo comunque No Cerchiamo Per le Ciemone Cerchiamo sempre Di dare una fine Agli eventi Con un concerto O qualcosa Spesso succede questo Anche alle Velorussione O alle Io con questo Cazzo di computer Non mi ci riesco Proprio Scusate Ciemone a 2007 La Ciemone romana In genere Viene organizzata In tre giorni Il primo giorno Il venerdì Il venerdì È quello Classico Appuntamento A fine mese L'ultimo venerdì Del mese Dove è la Ciemone romana Poi c'è il sabato Invece Che è quella grande E la domenica Invece Che arriva il mare Prendendola Cristoforo Colombo Si fanno Trenta chilometri E si arriva il mare Poi a volte Alcuni tornano in treno Altri invece Tornano Tornano in bici E Non so che altro dire Altri rimangono a dormire Al freddo Con l'illusione Che Piero Avesse portato Da bere Per tutti Questo Questo qui È stato un macchinario Che aveva costruito Questo ragazzo qui Che vedete Qui in foto Anthony Anthony Un orologiaio Completamente Matto Scocciato Lui non voleva Mai saldare nulla E giuntava tutto Con viti Bulloni Bucava Alzava Una persona incredibile E questo macchinario Che vedete qui Vediamo se si può allargare Sì È un macchinario Per fare le piste ciclabili Quindi praticamente Questi qui Sono due barili Ok Con la vernice Una gialla L'altra arancione Che Passano Tramite Questo tubicino Qui La vernice Su questi tamponi Lui ha fatto Tantissime prove Per fare questi tamponi Addirittura Aveva costruito Un'enorme penna sfera Con un pallone Da basket Cioè Era una persona Davvero assurda E sta cosa qui Ha funzionato La notte di Natale Hanno regalato A Roma Al quartiere di San Giovanni Hanno regalato Una pista ciclabile Vestivi tutti da Babbo Natale Andavano in giro Poi questo progetto Qui che vedete Qui in foto Non so dove Ce l'avrò Qualche altra foto Ho avuto il tempo Di trovarle Ci ha messo Un enorme cilindro Al centro Dove c'erano Altri rubinettini Che bagnavano Questo cilindro Con un'enorme leva E sto cilindro Ogni tot pedalate Lui abbassava Con questa leva Il cilindro Che toccava L'asfalto E imprimeva La sagoma Della bicicletta E poi lo rialzava Quindi faceva La pista ciclabile Ogni tanto abbassava Sto coso Che faceva La forma della bici Lo rialzava su Un genio Un genio No Assolutamente no Tra l'altro Se vogliamo dirla tutta Anche molto costoso Perché le vernici Che utilizzavamo Erano le vernici Vere e proprie Per le segnaletiche stradiche Costano davvero parecchio Soldi ovviamente Che venivano sponsorizzati Della ciclofficina All'inizio Perché poi si è scoperto Che è reato Con la vernice Davvero? Sì Però è cambiato il colore Sì Se usi la vernice al quarzo È reato Perché è contraffazione Del codice della strada Invece Se è vernice normale No Questa è la murga Con Filippo Tito Che suonava sempre Rullanti E comunque Quel macchinario Settimana scorsa Si è tornato in ciclofficina Alla SNIA È stato modificato È reso Più trasportabile È stato applicato Uno solo Dei bracci Alla bicicarrello E quindi Settimana prossima O nelle settimane A seguire Appariranno Altre piste ciclabili In giro A quanto pare Per rispondere ad Afro Una delle cose Una delle cose Belle che sarebbe Il caso Accostare la Ciemona È anche un posto Dove Poter costruire Delle cose Quindi Una ciclofficina Perché Le persone che arrivano Magari direi Comunque Un supporto tecnico Per poter attaccare Una bandierina Un festone Un tamburo Costruire Ciopper Cose Succedeva sempre E continua a succedere sempre Durante le Ciemona I giorni precedenti Si costruiscono sempre O si rimettono a posto Rishow Ciopper Bici a due piani Questo qui Era un Un Rishow Che era stato rimesso a posto Proprio giorni prima Della Ciemona Io non Non me ne farei vedere Altre della Ciemona Mi farei vedere Qualche altra foto Delle Delle critical mass In giro Per il mondo Allora Vediamo un po' Dove ce l'ho Una domanda Sì Una domanda Sui numeri Diciamo Della Ciemona Nel tempo Come sono stati All'inizio C'è stato un numero Consistente Di persone Che è andato pentando Oppure è andato diminuendo Nel tempo Negli ultimi due anni Il numero si è stabilizzato Che rimane Tra i 9 mili E i 11 mila Ok Parlo della giornata Del sabato Mentre invece È cresciuta È stato curioso Perché sembrava Quasi Quasi programmata Perché Il primo anno Saremo stati Buon 3 mila Secondo anno Mille di più Il terzo anno Mille di più Il quarto anno Mille di più Sembrava proprio Davvero una cosa Una cosa programmata Comunque è stato Esponenziale La crescita è stata Sì sì Vi faccio vedere Parlavate anche La snia No A tre corsie Cioè Abbastanza impressionante Cioè i numeri A me mi sembrano Anzi Sempre Sì Forse negli ultimi due tre anni Sono sempre gli stessi Ma parliamo Di veramente tanto Non so chi conosce Roma Ma io Non quest'anno L'anno prima Mi ricordavo Una telefonata Io stavo a Piazza Venezia E l'altra persona E non stavo in testa L'altra persona Stava a stazione Termini E non stava in coda Cioè passando per via nazionale Cioè stiamo a parlare Di chilometri Stiamo a parlare Di tipo 3 chilometri Un po' sottotolo Come spinto Soprò Cioè l'ultima Ciemona È stata un po' Soprò C'era meno Ma se mi ha fatto disquisizione Sulla Ciemona Che può fregare C'è un po' fregare De meno Però Meno Meno messaggi Meno folcloristica Rispetto ad altre Ciemone Diciamo L'ultima E la penultima Secondo me Deriva molto Anche sì Da chi Dal gruppo promotore Che poi è vero Che è una coincidenza Organizzata La critical mass Però è anche vero Che per organizzare Un evento Così grosso C'è gente Che fa riunioni Che discute Da prima Che fa I manifesti Per andare lì E poi che li va Ad attaccare Questa roba Questa roba qua Bici a Roma Che prima non c'era Sulla organizzazione Però Della Ciemona Non c'è stato Un ricambio generazionale Cioè il cambio generazionale Del quale abbiamo parlato E quindi è naturale Che dopo anni e anni E anni di Ciemona Uno che l'ha organizzata Per anni e anni E' naturale che poi Arriva che è stanco E magari le cose le fa Ma le fa con meno entusiasmo Rispetto agli anni precedenti Perché sono sempre Le stesse persone Che poi si riuniscono Anzi vanno diminuendo Cioè ogni anno C'è sempre problemi Chi va ad attaccare i manifesti I manifesti Se ne fanno di meno Cioè Queste sono le problematiche Però vabbè Sono relativi a un evento Cioè la Ciemona È un evento Quindi Lascia il tempo che trova Secondo me Cioè Molto più importanti Sono le critical mass Durante l'anno Cioè la partecipazione Durante l'anno Lì bisognerebbe un po' capire Quali sono i numeri Non so se sono cambiati Rispetto al passato Però C'era una sproporzione enorme Tra la Ciemona E le critical mass mensili Ah certo Allora Il problema è proprio quello Lo stesso discorso Del ciclista Che va alla Ciem E poi Se ne va con la macchina Tutto l'anno Cioè il lavoro Va fatto quotidianamente Il lavoro fatto bene Quotidianamente Dovrebbe portarti A fare numeri più grossi Nelle critical mass mensili Le critical mass mensili Comunque a Roma Crescono Cioè Il numero dei partecipanti Cresce Perché io mi ricordo Uno o due anni fa Le critical mass D'inverno Capace che eravamo 15-20 Capitava Invece adesso Pure sotto la bioggia Ci stanno 200-250 persone Un dato positivo Per rispondere a Francesco C'è stato Forse è scemato Un po' L'energia organizzativa Agli eventi collaterali Proprio perché Probabilmente Non c'è più il ricambio Che c'era prima Ok Quindi quelle persone Che come me Come altre persone Delle ciclofficine Magari si sbattevano A trovare un posto Per organizzare Un buon concerto Per trovare Chi cucinava Per far uscire 1600 portate A 3 euro A piatto Cioè Tenere tutte queste cose qui Davvero lo E quindi tante tante forze Per Così Per la causa Dopo un po' Iniziano a scemare Perché non c'è il ricambio Forse è questa L'unica cosa Che vedo Che scende un po' Perché La Il numero invece Proprio dei ciclisti Che partecipano No No Rimane Rimane quello Se era quello Che Sì Se abbiamo finito Con questa domanda Vorrei passare Alla prossima Sì E cioè Che A Berlino E da quello Che ho sentito Anche a Vienna Negli ultimi anni Cioè i numeri Cioè i numeri Delle critical mass Sono saliti Moltissimo È diventato Una cosa Proprio di moda E Direttamente Proporzionale È il numero Dei partecipanti È cresciuta L'istituzionalizzazione Della cosa Cioè L'immischiamento Insomma Dell'autorità Delle autorità All'interno Della critical mass Al punto che Da quello che ho capito A Vienna C'è Un percorso Stabilito Addirittura Concordato Con le autorità Prima di partire Come se fosse Proprio una manifestazione Insomma Con autorizzazione Con le Motociclette E la polizia Che passano davanti Spianano la strada Che chiudono Dietro La stessa cosa Succede a Berlino Al punto che La Bike Kitchen Di Vienna Cioè La cicloficina Di Vienna Che è stata Fautrice Poi di questo Di questo cambiamento Insomma Del fatto che Critical Mass Ha preso Così tante persone Ha deciso Di tirarsi fuori Dalla Critical Mass Perché Appunto È diventato Troppo controllo Insomma E Niente Mi chiedevo Quale fosse Ecco la vostra A Roma è successa Sta cosa È successo Per un periodo Durante le critical mass Mensili Che c'era Una volante Dietro Che seguiva Non so se te lo ricordi C'è stato addirittura Un periodo Che c'era una volante Davanti Ok Che La volante davanti È durata davvero pochissimo Perché non c'aveva senso Perché nessuno la seguiva Cioè quindi Ok Girava l'angolo Avevano provato a dire Andiamo di qua Senza dire Dovete venire di qua Però proponevano Tipo dei percorsi No Durante la Cemona Alla fine È necessario Arriva la polizia municipale Arriva La municipale Non la polizia Arriva perché Oramai lo sanno Semplicemente poi Perché è più lenta Quindi La raggiungono facilmente Però C'è È un Influente Sulla massa Quando invece capita Alla critica Al mass mensile È sempre Puntualmente Seminata La testa Comincia a prendere strade Contro mano Veicoli stretti E non sono mai riusciti A mettersi davanti O dietro Alla fine Sì Sì di qua Vorrei fare Sì quello che succede A Berlino Cioè a Berlino È successo un paio di volte Che sono state Sono state proprio Arrestate persone No Che hanno sfondato Il cordone Delle guardie Che Dicevano No di qua non si passa Capito Infatti sono sempre Tutti molto contenti Di venire Alla Cemona Per quello Perché qua Hanno capito Che fanno come vogliono I viennesi Impazziscono a Roma Sì Non trovano Le piste ciclabili Possono girare per Roma In mezzo al traffico In mezzo alle macchine Sono felicissimi Ah li capisco Questo è uno slide Di qualche fotografia Fala andava Fala andava Di Di fotografie Durante Una piccola Critical Mass All'Inz Per il Cyclocamp Tu c'eri Al Cyclocamp All'Inz Non è una Non è una Cemona Ma è comunque Una Critical Mass I viennesi C'hanno una maniera Di porsi Molto punk Sì È molto molto divertente Andare in Austria A fare le Critical Mass Sono piuttosto Sono forti Sregolati Sono bravi Ci piacciono E torniamo indietro Vi faccio vedere Invece qualche altra Critical Mass Che abbiamo organizzato Dico che abbiamo Con le persone del posto Dove non c'erano Critical Mass In Thailandia Ad esempio Quando ero in viaggio È successa una cosa Molto particolare Quando stavamo lì In Thailandia Mi è venuto Mi è venuto a parlare Il tipo Della Della Municipalità L'assessore All'ecologia Allo sviluppo All'ecologia Insomma Una figura Che stava lì Nella municipalità E mi ha detto Che volevano Organizzare l'apertura Di una nuova pista ciclabile A Bangkok Dove non ci sono ciclisti Pista ciclabile Sui marciapiedi Ok A me già sta cosa Non piaceva Però In quel periodo Avevamo bisogno Di soldi E ci avevano chiesto A noi Come ciclare Un circus Come circo Di fare l'animazione A quella giornata lì E aiutarli A organizzarla E io ho detto Guarda che per organizzarla Non ci vuole nulla Devi soltanto stabilire Una data Farla circolare Tra i ciclisti Le associazioni E le cose E hanno organizzato Hanno organizzato Sta Prima critical mass Che poi l'ho definita Critical mass In realtà era Una passeggiata Innaugurazione Delle Di una Di una pista ciclabile Lì a Bangkok E alla fine Era Anche in concomitanza Tipo il mese prima C'era stato Il car free days C'erano Insomma C'erano un po' Di ciclisti C'era un po' Di roba Lì eravamo parecchi Eravamo intorno ai 600 ciclisti Che per Bangkok E' parecchio E' tanta roba C'erano ciclisti Un po' più secchioni Meno secchioni Con le bandierine Noi personalmente Come ciclone circus Ci siamo rifiutati Di indossare Le magliette Ma questa giornata Qui Era Sponsorizzata Da Toyota Questo è quello Che succede in Asia Esatto Quindi Si Però Grande numero di persone Questa è una cosa Molto curiosa Che fanno in Thailandia Quando ci sono Gli incidenti mortali Dove c'è pure il sangue E altre robe Qui si vede Lasciano le macchine Ben in vista Così le persone Capiscono Fanno queste pubblicità Sulla sicurezza stradale Dove smettono Dove Questi pannelli Dieci Per Per Favano andare avanti Che questa E' un po' stanca C'hanno sti pannelli Con Tipo delle foto Davvero crude Di incidenti stradali Con la gente Proprio Spappolata Con su scritto Andare veloce in macchina E' molto pericoloso C'hanno proprio Sta maniera Assurda Di fare Torniamo indietro Indonesia Che è la più carina Quante ne sono? Ne sono davvero tante Va bene E invece Questa è nata Come una vera e propria Critical Mass Con un gruppo Di ragazzi In Indonesia Mi ci sono fermato Alla fine Un anno E in quell'anno Abbiamo Abbiamo aperto Una ciclofficina Dove abbiamo iniziato A costruire Parecchie biciclette Molte a due piani Alcuni chopper E lì in Indonesia Ragazzi Ragazzi C'hanno una voglia Di imparare Costruire Autoprodursi Le cose Che è spaventosa Ed erano incuriositi La sta faccenda Della Critical Mass Ne abbiamo organizzata una E è andata bene Ne abbiamo organizzate Un'altra e due A distanza di un mese L'una dall'altra Quindi delle vere e proprie Critical Mass E queste fotografie qui Non ci hanno bisogno Di spiegazione Alla fine Ho capito benissimo Qual è il clima Ridono tutti Cioè È incantevole Le Critical Mass Lì erano Bellissime Non c'erano Cioè Non Non c'erano Discussioni Non c'era Non succedeva niente Se Se avete altre domande Riguardo le Critical Mass Perché se no Io vorrei iniziare A concludere Questa prima parte Dell'incontro E poi Per quanti di voi Sono interessati Vi racconto un po' Di sto viaggio Che ho fatto in bicicletta Quella sarà una cosa Un po' più Intensa Pesante Se ci avete sonno Andate a dormire Non lo so Che dite? Che dici Della Critical Mass E tutto? È meglio di giorno O di sera? Una Critical Mass? Che domanda curiosa Non lo so Sinceramente Non lo so Per i Per i colpi d'occhio Sicuramente di giorno C'è C'è un punto Della Cristoforo Colombo Della domenica Della Ciemona La Cristoforo Colombo È questa strada Che da Roma Porta Sulla Litoranea Sulla costa È una strada Che è lunga 30 km C'è un punto Della Cristoforo Colombo Dove tu arrivi in alto C'è la discesa E poi riparte la salita E se stai dietro C'hai un colpo d'occhio Che è davvero impressionante Perché vedi Un'enormità Di ciclisti Che poi la bicicletta Di sua Prende Di suo Prende Prende più spazio Di un corteo 2000 persone In corteo a piedi Prendono un tot di spazio La bici Ne prende Sei volte tanto E quindi È proprio Un colpo d'occhio Incredibile E secondo me Sono cose Che fanno venire voglia A un ciclista Un po' così Marginale Di iniziarlo a fare Un po' più spesso E di prendere la bicicletta A me personalmente La prima Critical Mass Dove sono stato Era una Critical Mass Nel 2002 A marzo O ad aprile Quindi abbastanza numerosa Ma era una delle prime Comunque a Roma Dove ci saranno stati 70-80 ciclisti Ma ha dato una forza E una voglia Di iniziare a usare La bicicletta Tutti i giorni Che Me la ricordo ancora È stato proprio Cioè mi sono trovato Lì e usavo la bicicletta Da pochissimi giorni E mi sentivo davvero Un cretino Nonostante Era una cosa Che mi piaceva tantissimo Quando sono arrivato In Critical Mass Ho visto tutta quella gente Che usava la bicicletta Come me Non la vedevo tutti i giorni Ma sapevo che c'era Mi ha dato una forza Indescrivibile E credo che sia Una sensazione Che viene La maggior parte Delle persone Che vanno Per la prima volta In Critical Mass Queste sono tutte Biciclette autoprodotte Quelle strane Che vedete Ok adesso è acceso Ok Ieri credo Che comunque Si è creato Un'atmosfera Molto bella L'abbiamo vista insieme Era molto forte Come Critical Mass Forse perché In questi giorni Si era creato Comunque L'humus Perché Divenisse una cosa Di questo tipo E Una cosa Che Ora ho incontrato Una persona Oltre ai vari messaggi Che mi sono arrivati Oggi Di ringraziamento Rispetto a questa Qua Che poi Diciamo È un ringraziamento A tutti noi Che l'abbiamo fatta Sostanzialmente E Che una persona Che ha il pub Vicino Dove siamo Fermati Alla camionetta A mangiare i panini Ha detto Ha detto Ma perché Non Non organizziamo Degli altri eventi Che Insieme alle bici Venite Al mio pub E vi offro Da mangiare Da bere Quindi ieri Secondo me Si è creato Una grande forza Collettiva Che la città di Lecce L'ha vista In tutti i punti Quindi E non l'ha criticata Ma anzi L'ha vista Come un qualcosa Che era piena di armonia Secondo me È quello Lo spirito Della critical mass Attenzione Perché questa qui È una classica dinamica Che si Che si forma Durante la critical mass Io spesso Gioco proprio Su sta cosa Perché Ieri anche a un certo punto Siamo stati fermi Per tantissimo tempo A bloccare le macchine Praticamente a buffo Perché stavamo aspettando Che il sound system Arrivava E potevamo far passare Un po' di macchine E poi ribloccare il traffico Invece no E lì è stato Davvero provocatorio E abbiamo C'è quella strada Che poi porta Verso la stazione Abbiamo Abbiamo sgomberato La strada Dalle automobili Almeno per dieci minuti E c'erano delle persone Fuori a un pub Un bar Che quando siamo passati Ci hanno detto Grazie Era bellissimo Non passava nemmeno Una macchina Era stupendo Quei bambini fuori Che giocavano E io gli ho detto Scherzando Eh vi è piaciuto un sacco Perché voi state qui Immagina se stavate In macchina Perché secondo me Non usate la bicicletta Tutti i giorni E c'è stata una tipa Che ha fatto proprio Una faccia E è rimasta Completamente interdetta Questo è il classico Esempio di quello Che può fare La critica al mass Cioè le persone Che la vedono Dal di fuori Sono entusiaste Ma gli automobilisti Si incazzano In una maniera Indescrivibile Quindi cioè Su sta cosa Bisognerebbe sempre Almeno io Io mi so sempre Interrogato su sta cosa Se le persone Che ti applaudono Lai balconi Che dicono Ah è bellissimo Dove non sentono Passare macchine Quando passiamo Sulla tangenziale A Roma no Gente che si vede Sfrecciare le macchine A 12 metri di distanza È una cosa davvero Aberrante Come cosa Quando passiamo Con la CM Si affacciano tutti E stanno lì Applaudono Eh è bellissimo Secondo me Non lo so Automobilisti Mi piace un sacco Che quella strada È bloccata Ma trovano inconcepibile Cioè trovano impossibile Pensare che quella strada Sia chiusa Perché ti serve Allora Cioè Non lo so È strano Non so se mi sono riuscito A spiegare Io vorrei andare in bagno Andando in bagno Andando in bagno? Vai in bagno Intanto faccio la domanda Dopo te la ripeto Possiamo spegnere il microfono Per lo streaming No dai No Magari Cioè io intanto Inizio Sì 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 Continuando a parlare Di ieri sera Tipo Prendendolo come esempio Insomma Per Per le critiche Anmesse in generale Io per esempio Se devo essere proprio sincero Non è che sono stato Poi così Super contento Insomma Per me ci sono state Dinamiche che Appunto Come diceva Piero Adesso Sono state provocatorie Che quindi Hanno portato Cioè Hanno portato A dei comportamenti Degli automobilisti Che cioè Si potevano evitare Ma perché Noi ci siamo fermati Troppo In un punto In cui Ci siamo fermati Troppo in un punto Perché Perché Il sound system Era lento E la maggior parte Della massa Invece che Pensare Al sound system È lento Aspettiamo Oppure mettiamo Il sound system Davanti Lasciamo andare Lenti più avanti È andata avanti La massa E sono rimasti Indietro Sti poveracci E poi Sono lì Che si creano Sempre Tutte le volte Cioè Questa situazione Di pericolo Perché ci rimangono Sti poveracci Che sono magari Poi sempre più deboli O i bambini Quelli che vanno più piano Quelli che Hanno una bici Meno performante Diciamo Che rimangono indietro Con magari Una schiera Di automobilisti Incazzati Dietro E Sono in tre Dopo un po' Perché la massa È andata avanti Tanto quanto Sì Mi chiedo Quale Poss E questa è una discussione Che abbiamo avuto anche In ciclofficina A Bologna Perché c'è stato Anche lì Un po' Un calo Delle partecipazioni Nella critical mass E ci siamo interrogati Sul come Riportarla Di partecipazione Ma come fare Come Come Comunicare Questi valori Che sono fondamentali All'interno di una critical mass Ci sono Due o tre punti Insomma Che dovrebbero essere chiari A tutti Che però Si è visto Prendendo come esempio Ieri Si è visto che Non sono chiari A tutti Però è Non essendo organizzata E non avendo capi L'interrogativo è Come Riuscire a passare Questi valori Questi punti Senza Creare Una struttura organizzativa Senza creare Capi Ti riassumo brevemente Ho preso come esempio Ieri sera Per porre la questione Ci siamo dovuti fermare Davanti a quelle macchine Da cui è scaturita Poi una mezza rissa Insomma Dal fatto che Ci siamo Abbiamo bloccato Queste macchine Per troppo tempo Anche all'interno Della rotonda Cioè Quando stai davanti Un'automobilista Troppo tempo E quelli dietro Non si muovono Insomma Questo Poi Quell'episodio È successo Perché Perché è rimasto indietro Il sound Perché è rimasto indietro L'osteria E Perché è rimasto indietro Perché la gente Cioè La maggior parte della gente Non ha pensato Ah aspettiamo E sono andati avanti Insomma E quindi È una situazione Che ho vissuto In parecchie critical mass E che questi poveracci Insomma Rimangono dietro In due Dietro a una schiera Di automobilisti Incazzati E quindi Come La domanda è Cioè Come Migliorare Queste situazioni Come Passare Questi Punti Cardine Della critical mass A tutti i partecipanti Della critical mass Senza Scusa Senza Creare Una struttura Organizzativa Senza creare Dei capi Dei leader Perché Vogliamo che Rimanga Una cosa Una coincidenza No ma anche senza Tanto ci sentiamo Siamo in Ah scusatemi No c'è anche Secondo me c'è anche Un altro fattore Nel senso che condivido Quello che Quello che hai detto Perché l'abbiamo vissuto insieme E Io ho notato anche Che c'è una tendenza Ad essere contro L'automobilista Che secondo me È un fattore Che Oltre che essere inutile È anche Controproducente Perché la verità È che noi siamo A favore Di un movimento Di diverso genere Di diverso tipo Quindi Anche insistere Sul fatto che A livello di Provocazione No Non attiriamo niente Cioè salvo Un'energia Di alcavolo Perché Io vedo anche Appunto le foto Che tu ci stai Mostrando Si capisce Si percepisce Che c'è più La gioia Di fare qualcosa Di fare un percorso Insieme Quindi noi ieri Eravamo carichi Di un'energia E in alcuni punti Di questo percorso L'abbiamo scaricata Perduta E Anche sporcata Cioè al di là Del fatto che Lì c'è una questione Di tipo quasi Forse tecnico Poi C'è un'altra Che è di tipo Umano Che è quella Di comprendere Che da un'altra parte Quasi tutti noi Siamo anche Automobilisti O lo siamo stati E E quindi insomma Noi siamo in una via Del mezzo E va calcolata Questa cosa Sì sì Questo c'è Concordo Davo per scontato Che Cioè L'auto umano Fosse già Assorbito Cioè nel senso che Cioè Non siamo lì Per provocare Ma Cioè non blocchiamo Il traffico Siamo il traffico Capito Sì Insomma Io Mi ponevo di più Cioè su Come Il rendere Di tutti Punti tecnici Cioè Premattamente Anche il fatto che Cioè a mio parere Una critical mess Non può andare A 7 km all'ora Capito Cioè Bisogna andare A 14 A 15 Perché se no Cioè Ci scende la catena Prima di tutto A noi E poi Non è Non è il traffico Questo è veramente Bloccare il traffico Dopo Perché c'è Ti fai la passeggiatina Invece c'è Per me Ha più senso Cioè mostrare Che cos'è Che cosa Succede Se un gruppo Di ciclisti Che vanno Alla velocità normale Che andrebbero Tutti i giorni Al lavoro Cioè che sono Dai 15 in su Che cosa succede In una città Nelle città Pianificate Con una pianificazione Urbanistica Cioè quella che abbiamo Che è Una critical mass Controproducenti Come condividere Questi punti Tecnici Con il resto Della massa Senza una creazione Gerarchica Ci possiamo lasciare Con questa domanda Sperando che Tra qualche anno Sapremo la risposta Credo Perché È bella tosta Come interrogativo Sì Le foto che stanno Passando adesso È del forum Delle ciclofficine Del 2007 Che c'era scritto Organizzato A Toulouse Noi siamo Abbiamo preso Un traghetto Che ci ha portato Da Roma A Marsiglia La Marsiglia A Toulouse Abbiamo fatto Un po' in treno Un po' in bici E siamo arrivati In questa ciclofficina Che è la ciclofficina Di Toulouse Che Anche loro Ci hanno un accordo Con La municipalità E gli mettono Da parte Le biciclette E In questo forum È stato il primo Esperimento Di Riunire Tutte le ciclofficine D'Europa Quindi sono venuto Un po' di Di ciclofficine Che Potevano arrivare Che volevano Stare lì In quella In quella In quella In quella Iniziativa In quella giornata E Quella ciclofficina Che ho visto Era Davvero Impressionante Nel 2007 C'aveva già Una quantità Di biciclette Che Cioè Davvero Spaventosa C'aveva Cumuli Di bici Per Per settori Sto cumulo Qui che vedete Sono bici Da corsa Che è davvero Assurdo E Materiale Tra l'altro Buono Insomma Materiale Utilizzabile La sera Poi ci sono stati Eventi Iniziative Cineforum Giochi Autorganizzati E non Bell'evento 2007 Io mi fermerai Ci vediamo tra un po' Ok Non lo so Un quarto d'ora Il problema È che alle otto Lo streaming Va via Ok Quindi Poi possiamo Continuare noi A fare Diciamo La presentazione Del viaggio Non so In maniera nostra Quindi Sono le sette e venti Sette Sette Non ce la facciamo Quindi Facciamo così Facciamo una pausa Di Quindici minuti Sì E poi ci rivediamo qua E iniziamo il percorso Del viaggio Fino a che è dura Ok Bene Bene